La CIA, agricoltori italiani, ha deciso di contribuire a questo progetto in quanto crede molto in tutto quello che riguarda l'educazione, la formazione, la sensibilizzazione al mondo del green, a tutto quello che può aiutare a trovare occupabilità, a creare nuovi posti di lavoro, a creare figure che possano inserirsi al meglio nel mondo del lavoro ma anche in quello dell'ambiente, proprio perché il concetto di green non riguarda più solo un rispetto ambientale ma è uno stile di vita, un'educazione, una sensibilità che deve essere a 360 gradi. Quindi per quanto possiamo essere d'aiuto cercheremo ovviamente di dare il nostro contributo al meglio e di apportare il maggior numero di informazioni possibili.